Ciao, bentornato oggi sul canale Spettacoli Televisivi, con notizie come È di queste ultime ore la lieta notizia della gravidanza di Aurora Ramazzotti Ad annunciare che presto arriverà la cicogna in casa della primogenita del cantante romano e della presentatrice Michelle Luntziker, sono le pagine di chi Ma chi è il fortunato futuro papà? È Goffredo Cerza, 26enne manager romano Il settimanale di Alfonso Signorini, chi, ha anticipato una notizia che domani uscirà in edicola e che in brevissimo tempo ha fatto già il giro del web, Aurora Ramazzotti è incinta È stato proprio chi qualche settimana fa a raccontare che Michelle Luntziker e sua figlia avevano comprato un test di gravidanza in Sardegna, mentre si trovavano in vacanza Ovviamente c'è chi ha creduto che il test era per Aurora, ma molte delle supposizioni si sono dirette verso la conduttrice di Striscia La notizia che com'è noto, fino a qualche tempo fa, dopo la separazione da Tommaso Trussardi, ha avuto una relazione con Giovanni Angiolini Il test di gravidanza era invece per Aurora, che dopo 5 anni di fidanzamento con Goffredo Cerza, corona il loro rapporto con l'arrivo di un bebè Chi è Goffredo Cerza? La storia d'amore tra Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza è iniziata nel 2017, quando entrambi si trovavano a Londra per gli studi Nella capitale britannica infatti è avvenuto il loro primo incontro, grazie ad un'amica in comune, Sara Daniele, figlia del compianto cantautore napoletano, nonché migliore amica di Aurora Goffredo proviene da una famiglia benestante, che lavora nel mondo sanitario Sua madre infatti, Francesca Romano malato è manager di un poliambulatorio della capitale, mentre Fabio Cerza, suo padre è uno specialista di ortopedia e traumatologia Anche la sorella più grande di Goffredo ha seguito le orme della famiglia visto che di lavoro fa la biologa molecolare Il fidanzato di Aurora Ramazzotti, come si legge dalla sua biografia su Instagram ha conseguito il diploma alla Marymount International School, istituto privato internazionale di Roma, esse laureato a Londra e laurearsi in ingegneria elettrica alla University of London, dove si è trasferito dopo le scuole superiori Una coppia amata sui social.Goffredo Cerza e Aurora Ramazzotti sono sempre stati una coppia unita e molto seguita sui social Lui che con il mondo dello spettacolo non ha niente a che fare, ha iniziato ad assaporare la lontorietà stando al fianco della nota figlia d'arte Oggi Goffredo, che ha lasciato Londra durante la pandemia per stare più vicina ad Aurora, lavora come marketing manager e business analyst, ma ha una grande passione per il fitness Proprio per questo motivo, come si apprende dal suo profilo Instagram ha anche fondato una pagina web e social, in cui prepara programmi di allenamento personalizzati Ciao e ci vediamo nei prossimi video Ciao e ci vediamo nei prossimi video Ciao e ci vediamo nei prossimi video Ciao e ci vediamo nei prossimi video